Allora Matteino, vogliamo prenderle queste medicine o che cosa? Ma scusa, allora ha ragione la mamma quando dice che mangi le caramelle? Al posto delle medicine, come facciamo qua? Il prezzo è mia mamma, lì, ciao via! Matteino, guarda che se non prendi le medicine, la mamma non ti porta alle Olandia! No, fanculo! Sì, inscrivoli!